Non è facile aiutare a elaborare il lutto a distanza, eppure in questi mesi il centro camigliano di formazione si è adoperato per essere presente anche sulle piattaforme online per sostenere le persone affaticate dalla sofferenza. L'importante è il primo passo, saper chiedere aiuto perché il supporto non manca. Come centro camigliano di formazione abbiamo attivato dei corsi per accompagnamento nel tempo della perdita, quindi nel momento della fase terminale della malattia, e l'accompagnamento proprio nel momento del lutto. Sono corsi in presenza ma che in questo momento poi trasformeremo online. Un corso specifico di accompagnamento nel tempo del lutto è stato attivato l'anno scorso con una modalità di formazione a distanza e hanno interagito un po' tante persone provenienti da tutta Italia. Praticamente vengono erogate delle lezioni inviando del materiale cartaceo e i corsisti vengono sollecitati a mettersi in discussione, non fornendo tanto delle soluzioni ma ricostruendo la propria esperienza e imparando alcuni dinamismi di accoglienza, di accompagnamento, di counseling che possono aiutare le persone a reagire e a superare con resilienza il momento del dolore dovuto al lutto. Dunque il centro di relazione di aiuto presso il centro camigliano di formazione è un centro che fornisce un servizio di ascolto, di supporto e quindi di counseling per persone che vivono delle difficoltà. Possono essere difficoltà relazionali, comunicative o anche legate alla dimensione del lutto. Quindi le persone telefonano al centro camigliano e possono iniziare questo percorso di accompagnamento. È un servizio gratuito che viene svolto o dallo staff del centro camigliano oppure dai tirocinanti della scuola di counseling. Noi abbiamo una scuola triennale che forma proprio l'ascolto e l'accompagnamento. L'accompagnamento del lutto viene fatto per persone che vivono in tutta Italia e già due diocesi hanno chiesto una formazione su queste tematiche. Il centro di relazione di aiuto San Camillo è un punto di riferimento importante per un supporto personale a varie situazioni. Allora sono incontri di ascolto per cui la persona viene accolta, viene ascoltata senza giudizio e le si propone un percorso di proprio cambiamento rispetto o a una soluzione del suo problema oppure come vivere con una prospettiva diversa questa fatica che sta vivendo. Sono massimo dieci incontri e possono essere anche meno e si tratta proprio di accompagnare la persona dal momento di fatica a un cambiamento e quindi alla possibilità di sentirsi arricchita in una nuova condizione di vita. A mio avviso c'è una paura di fondo che è proprio la paura della morte e questo scatena una serie di reazioni di difesa, di evitamento della morte che insomma è abbastanza evidente, sono un po' sotto gli occhi di tutti a partire da come oggi viviamo la morte, dal fatto che la morte non è più vissuta a casa non è mai vissuta quasi esclusivamente in ospedale insomma comunque lontano da casa, ecco che poi sia l'ospedale o altre strutture questo non cambia la sostanza insomma quindi c'è questo evitamento un po' culturale della morte che porta alla conseguenza che poi anche l'esperienza del lutto l'elaborazione del lutto è complicata perché è chiaro che chi ha un vissuto invece di, non dico di familiarità ma comunque ha fatto un po' pace con l'idea della morte sarà anche facilitato nel vivere l'esperienza del lutto questo è abbastanza comprensibile insomma infatti io dico sempre che 30 anni fa non si facevano i gruppi di mutuo aiuto per il lutto Padre Pierpaolo è vice direttore del centro di formazione e presidente dell'associazione per il lutto perché lasciarti andare che propone un ascolto a tutti anche a persone non credenti L'associazione è nata una decina d'anni fa per volere di alcuni sacerdoti e laici che lavoravano già nel campo dell'elaborazione del lutto soprattutto con i gruppi di mutuo aiuto ed è nata proprio per coordinare le varie esperienze che c'erano qui in città, a Verona ma anche nelle zone attorno e quindi coordinare un po' le varie iniziative appunto che ognuno già attivava e per attivarne altre insomma e poi di fatto l'associazione si è sempre posta l'obiettivo di organizzare anzitutto appunto i gruppi di mutuo aiuto sul territorio il più possibile cercando di raggiungere il più possibile tutti Poi c'è un convegno che organizziamo tutti gli anni a livello diocesano, cioè a livello sì di diocesi ma comunque aperto a tutti chi vuole venire e viene ma in questo momento attualmente proprio in questo preciso periodo c'è un gruppo attivo a Sona, nella parrocchia di Sona e basta per adesso nel senso che adesso è un po' anche tutto punto di domanda perché appunto se ci chiudono dentro un'altra volta sarà impossibile farli in presenza In questo momento è una fase di grande bisogno è un bisogno da un punto di vista di sostegno persone che per esempio appartengono al mondo sanitario hanno chiesto aiuto persone che frequentano soprattutto il mondo della scuola quindi insegnanti che ad un certo punto hanno fatto molta fatica anche a vivere la propria condizione e anche come attuare poi la relazione di aiuto con i ragazzi per cui è un bisogno che in questo momento per esempio è legato anche alla fragilità della solitudine di alcuni anziani e quindi sono emersi grossi bisogni nuovi anche che non erano presenti prima di questa pandemia purtroppo La prima cosa fondamentale è proprio la dimensione dell'ascolto quella è fondamentale perché le persone questa è una delle cose che mi dicono soprattutto alla fine quando si verifica un po' l'esperienza fatta la cosa più positiva che sottolineano è proprio questa cioè essersi sentiti ascoltati senza giudizio cosa che a volte fuori o in famiglia addirittura anche tra le persone più vicine a volte invece non riescono a vivere come esperienza perché sentono subito, si andano subito bloccati a meno uno espone magari tira fuori i propri sentimenti anche di sofferenza e subito viene un po' tacciato di no ma non devi pensare a questo subito vieni bloccato quindi non hai la possibilità di liberamente dire quello che senti che a volte non sono vissuti allegri quindi il problema è che magari la persona che ti sta ascoltando non è in grado, non è capace di accogliere questo vissuto mentre il gruppo questo lo fa perché è certo, è anche aiutato da chi lo guida il gruppo evidentemente perché una delle regole fondamentali del gruppo di mutuo aiuto è che ognuno ha diritto di parola e nessuno ha diritto di dire o di bloccare qualcuno in questi anni tante persone chiedono questo accompagnamento perché rispetto al passato dove il lutto faceva parte dell'esistenza la morte risulta sempre un po' difficile da integrare a volte vissuta come un tabù soprattutto in alcune famiglie magari dove anche i bambini vengono lontanati rispetto alla perdita del papà o della mamma non partecipano neanche ai riti celebrativi per paura che possano soffrire eccessivamente quindi questa carenza di presenza appunto nell'ambito delle fasi del lutto potrebbe anche generare delle difficoltà poi a prendere contatto con una realtà della vita perché la morte fa parte della vita ecco come centro di formazione abbiamo anche la possibilità di aprire l'accompagnamento a tutte le persone anche ai non credenti però ecco la risorsa che più roviene dalla fede può essere importante per aiutare le persone a superare effettivamente questo momento di difficoltà grazie a tutti Grazie a tutti.